Entro il 2026 Salerno avrà un parco naturalistico sportivo. Prende finalmente forma il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex ceramica d'Agostino, già immaginata 15 anni fa dall'allora sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che stamani, nelle vesti di governatore della Campania, ha preso parte alla cerimonia che di fatto avvia i lavori per la riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'ex cava d'Agostino a Brignano. Il programma di opere e lavori pubblici prevede, con il sostegno della regione Campania, un investimento di oltre 30 milioni di euro e prevede la bonifica ambientale, il consolidamento idrogeologico, la sistemazione del lago e delle zone circostanti, la realizzazione di impianti e servizi per lo sport ed eventi, parco giochi, sentieri naturalistici e parcheggi. Ma il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, stamani, nel corso del suo intervento, ha anche immaginato che il laghetto possa essere usato per allenamenti e sport nautici, come ad esempio il canottaggio, pensando anche a punti di storo. Ci sarà un parco gioco, un campo calcio regolamentare di rugby e di calcio, due campi di padel, un campi di pallacanestro, una palestra con oltre 500 posti. Sarà un'opera assolutamente suggestiva, ha detto De Luca, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore all'urbanistica e lavori pubblici Dario Loffredo, di tecnici, operai e titolari delle imprese, del consorzio Arechi, dei gruppi Marinelli, Carlo Magno ed Esposito, che si occuperanno dell'intervento. Le opere sono tutte di ingegneria naturalistica, con una grande attenzione ai materiali e alla compatibilità ambientale. Addirittura le canalette saranno in legno, quindi devo dire, ha detto De Luca, che sarà, una volta completata l'opera, un parco naturalistico di grande richiamo e di interesse, soprattutto per la presenza del laghetto, una bellissima realtà che molti cittadini salernitani neanche conoscono. L'occasione per il governatore stamani per parlare anche di altri progetti in corso nella città di Salerno, che si avvalgono di finanziamenti regionali, come il nuovo ospedale di Salerno e il restyling dello stadio Arecchie del Campo Volpe. Sarà un parco bellissimo questo. Eravamo partiti con la progettazione quasi 15 anni fa ed eravamo partiti alla necessità di consolidare il costone sul versante Giovi-Casamanzo, perché avevamo lì un problema idrogeologico delicato. Quindi è un intervento che prevede il consolidamento del versante Casamanzo, ma anche un parco sportivo vero e proprio, con la valorizzazione del laghetto che abbiamo qui a Brignano che i nostri concittadini non conoscono, e con la realizzazione di tanti impianti sportivi, di calcio, di basket, due campi di padel, una pista di atletica, veramente è un intervento che arricchisce anche la dotazione impiantistica per lo sport della nostra città e della nostra regione. Ho voluto ribadire in questa occasione che stiamo chiudendo per la gara, per la ristrutturazione dello Stadio Arechi e dello Stadio Volpe. È un investimento importante. Credo che entro luglio noi partiamo con la gara che sarà di lavori e di progettazione esecutiva. Abbiamo voluto collegare lo Stadio Arechi con il Campo Volpe per offrire un'alternativa quando dovesse essere necessario per la Salernitana per non allontanarsi da Salerno per le partite di campionato.